Nero su bianco sono 200, tante firme a cui corrispondono altrettanti cittadini esausti, amareggiati, stanchi del degrado, della musica a tutto volume, delle risse che scoppiano improvvisamente, dello spaccio agli angoli delle strade, delle vie trasformate in latrine a cielo aperto. La fotografia è quella dell'ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele, le firme sono quelle dei cittadini che un gruppo di residenti ha raccolto e che a giorni finiranno sul tavolo di sindaca, prefetta e questore. Siamo arrivati a raccoglierne 200, spiega la portavoce Camilla Sartori, e abbiamo preparato un esposto in cui c'è tutto, l'insicurezza, i passaggi ad alta velocità delle auto, gli innumerevoli deor dei locali che tengono aperto fino alla mattina, l'immondizia, lo spaccio, vicolo edilizia trasformate in latrina. In una parola, il degrado. Proprio sulla questione, la consigliera di Fratelli d'Italia, Sara Soresi, è intervenuta con un'interrogazione indirizzata alla Presidente del Consiglio Comunale. La richiesta è quella di installare in vicolo edilizia telecamere e un'illuminazione pubblica idonea, ma anche di incrementare i controlli da parte delle forze dell'ordine.